Sistema Siracusa, lega ambiente e prende posizione ai giudici, non siate clementi. L'inchiesta sul cosiddetto sistema Siracusa che avete imputati a Messina per corruzione magistrati e avvocati politici, rigettato il patteggiamento chiesto da alcuni indagati, poco più di un'ora di Camera di Consiglio per decidere poi la GUP del Tribunale di Messina di Tiziana Leanza, ha rigettato la richiesta di patteggiamento per incongruità della pena per 4 dei 5 indagati che fanno parte delle 17 persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza battezzata Sistema Siracusa che riguarda il presunto giro di inchieste pilotate in cambio di favori. È stata rigettata la richiesta di patteggiare per l'ex PM del Tribunale di Siracusa Giancarlo Longo, per Giuseppe Cirasa, Francesco Corrado Perricone e per l'avvocato Giuseppe Calofiore. È stata colta solo per Bruno Gastaldi e l'udienza è stata fissata per domani mattina. L'ex magistrato Longo, accusato di corruzione, aveva proposto 5 anni di pena, il suo TFR come risarcimento di danni allo Stato, oltre alle dimissioni della magistratura. Parte civile nell'udienza è il comune di Siracusa, Lega Ambiente, l'ordine degli avvocati e il magistrato Marco Bisogni. Si è raggiunto il patteggiamento in fase di indagini anche all'avvocato Giuseppe Calofiore. Il legale, insieme con il collega Piero Amara, ha collaborato con i magistrati. Secondo gli inquirenti, i due avvocati seracusani avrebbero corrotto magistrati in cambio di sentenze anche a favore del gruppo imprenditoriale Frontino. Il 12 novembre inizierà il processo per gli altri sette già rinviati a giudizio, mentre il 22 novembre è fissato il rito abbreviato per Ornella Ambrogio, Davide Venezia e Davide Rapisarda.